Tullio Solenghi, stupendo, eccezionale attore, questa volta imitatore. Che cosa si aspetta? Cosa teme di più? Ma io non ci dormo la notte perché è un genere che non avevo ancora praticato, quello delle imitazioni cantando poi. Quindi è un doppio salto mortale con triplo avvitamento, coefficiente di difficoltà 8,6. E vediamo cosa dice la giuria, se entro in acqua senza fare il rigurgito dell'acqua, sono fresco di Olimpiadi quindi ti so dire tutto, se entro perfettamente verticale, vediamo, vediamo come mi tuffo. Chi è che teme al volo, chi è che teme di più della giuria ovviamente, con una Goggi che è veramente ormai navigata in questo ruolo? Ma non li temo, sono tre persone che stimo, tre amici e quindi no, non li temo. Chi non vorrebbe imitare? Chi non vorrebbe imitare? I politici, quelli no, ve li lascio agli altri.